Buongiorno a tutti e a tutte, oggi con il sindaco Sala abbiamo firmato un importante impegno e c'è quello sull'utilizzare una comunicazione non ostile, quindi nell'ottica di cercare di diminuire anche quella che è la tensione, anche molto forte spesso di attacchi hater in confronti di chi si assume delle responsabilità pubbliche, ci sono stati casi recenti anche molto gravi e quindi un impegno da parte nostra a livello istituzionale, a livello di città di rifondere anche iniziative proprio da questo punto di vista sull'istruzione e culturali. Sono qui con grande piacere perché il tema è un tema importante, contemporaneo perché come anche certamente il sindaco Appendino noi pensiamo che queste piccole e grandi rivoluzioni debbano nascere dalle città e quindi bene che Milano e Torino con le altre città siano assieme e poi c'è anche un motivo un po' personale, ma insomma io ho voglia di fare politica, mi piace fare politica, ma molto spesso mi mette a disagio l'idea di fare politica e di far parte di un sistema che usa un linguaggio e un modo di fare così sgradevole, per cui daremo l'esempio noi in maniera diretta e personale e nelle nostre città ci impegneremo per far sì che le parole e ostili vengano a cessare. Grazie. Grazie Grazie